Elezioni amministrative, sette comuni pesaresi pronti per eleggere il primo cittadino. Covid, cinque ricoveri in meno nelle marche, parte il secondo camper per le vaccinazioni. Comune, Assunzioni e Green Pass, l'assessore della Dora replica i sindacati. Italservice domani a Palafiera, il quindicesimo Memorial Nino Pizza. Il quindicesimo Memorial Nino Pizza. In apertura parliamo di politica perché sono sette i comuni della provincia pesarese in cui domenica e lunedì i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco. Nelle passate edizioni del nostro telegiornale abbiamo avuto modo di intervistare sia i primi cittadini uscenti in cerca della riconferma, sia gli sfidanti che si sono presentati all'appuntamento elettorale. A chiusura della campagna vediamo quindi in questo primo servizio una panoramica di tutti i candidati e delle informazioni legate a queste due giornate di voto. Si chiude la campagna elettorale per le elezioni amministrative Sfida aperta anche a Fossombrone dove il sindaco Gabriele Bonci che ha deciso di non ricandidarsi sostiene la corsa dell'attuale assessore Gloria May. La candidata pentastellata dovrà fronteggiare altri tre sfidanti, l'imprenditore Massimo Berloni, la consigliera comunale di minoranza uscente Elisa Cipriani e l'ex primo cittadino di Sant'Ippolito e segretario col diretti Fabio Londei. Si vota anche a Fermignano dove la candidata Delfina Betonica lancia il guanto di sfida all'attuale amministrazione guidata da Emanuele Peduzzi. A Colli al Metauro le urne sono chiamate con un anno d'anticipo rispetto alla tabella di marcia. La poltrona di sindaco lasciata anzitempo da Stefano Guzzi, diventato assessore regionale, sarà ambita dalla lista Energie in Comune dell'ex presidente della comunità montana del Metauro Candio Curina e da Pietro Briganti della lista Insieme per Crescere. Lotta a due anche a Mondavio dove a sfidare l'attuale primo cittadino Mirko Zenobi della lista per un futuro comune è il candidato della lista Mondavio-Città Nuova Girolamo Martino. La partita degli ultimi due comuni sarà contro l'affluenza. Sia a Gradara che a Mercatino Conca, infatti, i sindaci uscenti Filippo Gasperi e Omar Lavanna guidano le uniche due liste che si sono presentate all'appuntamento elettorale. Per ottenere la riconferma delle attuali amministrazioni dovranno recarsi alle urne almeno il 40% più 1 degli aventi diritto al voto. Se in caso contrario il quorum non fosse raggiunto, le elezioni sarebbero annullate e ai comuni di Gradara e Mercatino Conca verrebbe assegnato un commissario prefettizio. Tutti i territori della provincia pesarese chiamati alle urne raccolgono una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e dunque non ci saranno ballottaggi. Domenica 3 i seggi saranno aperti dalle 7 di mattina fino alle 23, mentre lunedì 4 ottobre i cittadini potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 15. Parliamo ora di sanità con gli aggiornamenti quotidiani relativi all'andamento dei contagi da Covid-19 sul territorio regionale. Il bollettino del Servizio Sanità segnala che nelle ultime 24 ore, sui 3.045 tamponi analizzati, di cui 1.762 nel percorso nuove diagnosi, sono 94 i nuovi casi registrati nelle Marche. Di questi, 34 sono stati riscontrati nella provincia di Pesaro e Urbino. I ricoveri negli ospedali marchigiani calano di 5 unità, passando da 75 a 70. Nelle ultime 24 ore non è stato notificato alcun nuovo decesso legato al Covid. E prosegue anche la campagna dell'area vasta 1 per le vaccinazioni contro il Covid. Nel mese di ottobre al camper, già in circolazione da diverse settimane per le somministrazioni itineranti, si aggiungerà un secondo mezzo. Il primo camper ripercorrerà entro terra e costa per somministrare le seconde dosi di vaccino, mentre il secondo promuoverà le vaccinazioni nelle fiere, durante le sagre paesane, nei luoghi di Movida e nei poli industriali principali dell'area vasta 1. Le prime uscite sono per sabato 2 ottobre ad Urbino, presso il Collegio Raffaello in Piazza della Repubblica, in occasione della festa di fine estate, e poi domenica 3 ottobre a Gradara, in occasione dell'evento La Via in Rose. Nel nuovo camper verranno effettuate solo prime dosi senza prenotazione e il programma completo relativo alle tappe sarà pubblicato sui siti internet della Regione e su quello di Asur Marche. E dopo l'assemblea tra i sindacati e i dipendenti del Comune di Pesaro di qualche giorno fa, nella quale le due parti hanno evidenziato criticità legate soprattutto sul fronte dell'organico pubblico, l'assessore con delega al personale del Comune di Pesaro, Mila della Dora, ha deciso di replicare ricordando le sette assunzioni, parte delle quale in arrivo nei prossimi giorni, destinate ai servizi di edilizia e urbanistica. Vediamo il servizio. Smart Working, organizzazione in vista dell'estensione dal 15 ottobre del Green Pass e nodo assunzioni, sono le principali questioni emerse durante l'assemblea tra sindacati e dipendenti del Comune di Pesaro intercorsa qualche giorno fa, tematiche sulle quali si è concentrata la replica dell'assessore con delega al personale Mila della Dora, che alle carenze di organico sottolineate dai sindacati, ha evidenziato l'assunzione di sette persone dall'inizio del 2021 e un programma di azioni formative destinate proprio ai dipendenti. Appena sono uscite le disposizioni nazionali sul PNRR, il Comune ha deciso di spingere le assunzioni su quei settori come il SUAP, le opere pubbliche, l'edilizia privata, quei settori che hanno visto dei finanziamenti nazionali importanti, per quel che riguarda pensiamo il 110, i bonus e quindi volevamo essere in grado di dare delle risposte efficienti e immediate a quei cittadini e quelle imprese che avevano la voglia e la forza di intercettare quegli incentivi. Adesso a ottobre arriveranno quattro persone all'urbanistica e tre ne sono arrivate a inizio 2021, ricordo anche quella che era stata la critica da parte dei geometri, diciamo che abbiamo dato una risposta ma era in programma, era impensabile assumere nel periodo dello smart working. Appena ci sono state le condizioni noi abbiamo assunte, le persone sono praticamente quasi tutte in presenza. Tra l'altro dai primi di ottobre per nove mesi ci sarà la possibilità di fare formazione a tutti i dipendenti, i dirigenti e PO per razionalizzare, migliorare, efficientare quella che è la propria qualità del lavoro. Noi puntiamo anche su questo. Sul tema dell'estensione della certificazione verde, l'assessore ha confermato la bocciatura in merito alla richiesta dei tamponi gratuiti da riservare ai dipendenti dell'ente pubblico. Le prime ipotesi per l'applicazione delle indicazioni relative al Green Pass obbligatorio e la nuova programmazione delle assunzioni saranno al centro della riunione tra sindacati e comune prevista per il prossimo 5 ottobre. Sono diversi gli aspetti che verranno affrontati da quella del piano dei fabbisogni 2022, una chiacchierata che era già stata iniziata prima delle ferie di agosto con i sindacati. Avevamo ribadito il concetto che nel 2021 avevamo dato priorità a certi servizi, come ho detto, urbanistica, opere pubbliche, SUAP, e che per il 2022 ci sarebbero state altre assunzioni su altri servizi. Quindi condividendo con loro sempre le priorità. E poi un altro tema sarà quello appunto del Green Pass, dell'obbligo del Green Pass. In attesa di ricevere delle disposizioni nazionali, diciamo, sull'applicazione del Green Pass, l'amministrazione comunale si è sempre fatta trovare pronta a dare delle risposte. Quindi anche in questo caso saremo in grado già da subito ad attuare quelle che sono le disposizioni nazionali. In occasione della non aggiornata europea delle fondazioni è stata inaugurata questa mattina nei giardini della Biblioteca San Giovanni l'opera di street art dedicata all'Afghanistan e intitolata Non sono murales, segni di comunità. Un'iniziativa promossa oltre che dal Comune di Pesaro, dalle fondazioni Vanda di Ferdinando e da Casa di Risparmio Pesaro, in sinergia con Ittico Art Lab. Oggi è la giornata europea delle fondazioni. In 120 luoghi tutta Europa si celebra questa giornata perché anche a Pesaro c'è una grande tradizione e un grande lavoro di solidarietà che viene fatto attraverso il terzo settore, il mondo dell'associazione, attraverso le fondazioni di vario genere. La fondazione Vanda di Ferdinando e la fondazione Casa di Risparmio sono tra i soggetti che a Pesaro contribuiscono a valorizzare, ad aiutare, a contribuire, a realizzare tante degli aiuti che facciamo alle persone, il sostegno alla persona, il sostegno alla cultura, il sostegno alle attività economiche, a livello sanitario, tante delle attività che vediamo realizzate anche di grande rilevanza a Pesaro e grazie alle fondazioni. Sono forme giuridiche molto importanti che pochi conoscono e grazie a questa iconografia realizzata oggi e la stessa realizzata nei 120 luoghi si vuole raccontare questo. Un momento importante che ribadisce il principio di sussediarietà. Cosa vuol dire? Dove non arrivano le istituzioni pubbliche si cerca di arrivare con il coinvolgimento di altre azioni, anche private. L'ho realizzato insieme alle mie colleghe in collaborazione. Oggi loro non possono essere qui. Il dipinto in realtà ha una parte figurativa che è la stessa per tutte le fondazioni in questa giornata e che noi abbiamo declinato a tema Afghanistan. Quindi siamo partiti dal colore blu per poi incontrarci con loro che invece è un elemento tipico della cultura occidentale. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di pace e di cooperazione tra due mondi che sembrano sempre tanto lontani ma che invece non lo sono e che da sempre collaborano. Sostenuti appunto dal lavoro fatto dalle fondazioni che ogni giorno si adoperano affinché i progetti culturali possano sopravvivere, che piccole realtà come la nostra possano sopravvivere, ma che soprattutto fanno della cultura una vera missione. Sì, è anche un QR code che praticamente esprime anche quelli che saranno gli altri dipinti negli altri 120 luoghi. Sì, il QR code rimanda alla giornata di inaugurazione e alle opere che sono state realizzate in tutta Italia dove appunto ogni realtà l'ha declinata in base alla propria visione. E inaugura domani in Piazza del Popolo la Mostra Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali che andrà avanti fino a lunedì 4 ottobre compreso dalle 10 del mattino fino alle 22. 23 gli espositori presenti a questa 67esima edizione il cui accesso sarà consentito soltanto con il Green Pass che sarà verificato con controlli a campione sia ai varchi d'accesso che all'interno della mostra. E da lunedì 4 a sabato 9 ottobre compresi Via Bramante rimarrà chiusa al traffico dalle ore 9 alle ore 18 a causa dei lavori di installazione di due cantieri. I veicoli che provengono dal cavalcaferrovia del Miralfiore dovranno proseguire diritto e poi raggiungere via 24 Maggio con la possibilità di tornare su Via Bramante transitando in via Guidi. Anche via Montegrappa sarà chiusa negli stessi orari e potranno transitare soltanto gli autobus e i mezzi di emergenza oltre che i residenti di via Montegrappa via Bramante fino a via Bixio e quelli di via Bixio per raggiungere le abitazioni e i garage. E dal 1 ottobre al 23 dicembre sarà effettuato il censimento permanente della popolazione delle abitazioni che coinvolge solo un campione di famiglie. A Pesaro l'Istat prevede due tipi di campione quello areale e quello da lista con forme di compilazione diverse. Per il primo quello areale il questionario verrà compilato dal rilevatore incaricato dal comune. I cittadini saranno informati tramite locandine apposte nei portoni o da avvisi nelle cassette postali. Dal 14 ottobre il rilevatore contatterà le famiglie per concordare un appuntamento per compilare il questionario tramite il tablet di cui sarà dotato. Per il campione da lista invece i cittadini riceveranno dall'Istat una lettera con le informazioni per la compilazione del questionario che potrà essere effettuato online oppure recandosi a Palazzo Gradari che è la sede del centro comunale di rilevazione da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. E dopo Stregati dalla Bruna il San Costanzo Show torna sul set con il cortometraggio La Scoperta del Secolo realizzato con il contributo della Regione Marche nell'ambito del Bando Cinema per il sostegno delle produzioni audiovisive 2020-2021. Noi siamo il San Costanzo Show io sono Oscar Genovese il regista della compagnia anche attore e nonché il regista di questa produzione cinematografica in realtà si tratta di un cortometraggio che è nato all'interno di un bando regionale per l'audiovisivo 2020-2021 e appunto ci ha dato modo di partecipare introducendo un aspetto del territorio molto importante che è quello della valorizzazione dei reperti archeologici di Fano e di tutto il resto della Regione Marche. Il discorso del ritrovamento archeologico ovviamente di epoca romana è stato inserito all'interno di una storia chiaramente comico brillante che ha per protagonista un condominio e i suoi condomini all'interno di questo condominio anzi nei sotterranei di questo condominio durante i lavori di ristrutturazione viene alla luce uno spazio diciamo chiaramente di epoca romana che pare si tratti della fatidica basilica di Vitruvio quindi arriva il sindaco arriva il funzionario della sovrintendenza dei beni archeologici e il paesaggio delle marche dice e dice vabbè questo condominio lo abbattiamo e i condomini ovviamente non sono d'accordo e da qui parte tutta una serie di vicende che portano a una conclusione che però rimane aperta cioè il finale del corto è aperto diciamo che è stata una bella esperienza soprattutto perché se vale dalla collaborazione del Lego Film quindi di Henry Secchiaroli io mi sono avvalso della sua professionalità per quanto riguarda l'aspetto tecnico lui avevo più che altro diciamo la visione l'immagine del corto insieme a loro poi tutto il resto a livello tecnico di luce poi di suoni con il fonico Michele Conti e poi abbiamo le scene e costumi di Rosaria Ricci e le musiche composte dal gruppo The Box che è di Fano e questo diciamo ci ha permesso di collaborare con tantissima realtà tra cui il polo 3 scolastico che sono tutti i ragazzi hanno fatto il backstage del polo 3 la sezione grafica e comunicazione del professor Ferretti lo troverete nelle tv locali sul web e chiaramente in qualche spazio adibito alla proiezione si chiama cinema non si sa se è il cinema potrebbe essere anche un teatro uno spazio polivalente festival e anche sottotitolato in inglese pensa esatto questo è tutto e pubblicità ci vediamo tra 5 minuti ma dopo loro tagliano intanto noi parliamo dopo taglieranno grazie il centro sportivo italiano comitato di pesaro e urbino scende in piazza e lo fa insieme a tante società sportive del territorio domenica 3 ottobre presso i campi da basket del san decenzio l'ente presieduto da marco pagnetti organizza il villaggio dello sport una giornata di sport socialità e divertimento per bambini e ragazzi dai 3 anni in su sentiamo qualche dettaglio e informazione in più nell'intervista al presidente è un progetto che è nato grazie alla collaborazione del centro sportivo italiano a livello nazionale e soprattutto è un progetto finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali praticamente noi domenica creeremo appunto questo villaggio dello sport dove ci saranno dei gonfieri ci saranno aree di gioco singolarmente per ogni singolo sport dove abbiamo chiesto anche delle collaborazioni con alcune società del territorio pesarese ed è un'attività che è gratuita quindi i bambini potranno insieme ai nonni visto che anche la festa del nonno mi viene da dire accompagnata dai nonni sarebbe bellissimo vengono gratuitamente giocheranno nelle varie aree che abbiamo creato il villaggio dello sport sarà aperto dalle 10 alle 18 di domenica e ribadisco che è tutto gratuito ci saranno i nostri operatori non c'è bisogno di prenotazione ma solamente di registrarsi all'ingresso anche per una questione assicurativa e poi i bambini potranno giocare tutto il tempo che vogliono essendo un locale all'aperto non è necessario il green pass ma è necessaria la mascherina nel momento in cui non si può rispettare il distanziamento sociale e come giochi ci sarà il bigliardino umano il calcio 3 contro 3 il penalty shot il basket le freccette e tantissime altre attività come dicevo prima la palla a volo il calcio il baseball il bigliardino ci sarà tantissimo da divertirsi tantissimi giochi poi siamo ancora il work in progress quindi stiamo definendo ancora anche le ultime cose da poter proporre perché l'area è veramente grande e noi vogliamo riempirla tutta dei nostri gonfiabili dei nostri giochi ma soprattutto di tantissimi bambini e chiudiamo il nostro telegiornale con la pagina sportiva parlando di calcio 5 e di Italservice perché ad una settimana dall'inizio del campionato andrà in scena domani alle 17 al Palafiera di Pesaro il quindicesimo Memorial Nino Pizza trofeo in onore del papà del presidente bianco rosso Lorenzo Pizza che è stato fondatore dell'azienda Italservice vediamo l'intervista al presidente Pizza Per noi questo appuntamento il Memorial dedicato in onore a mio padre è sempre qualcosa di molto di molto toccante per me per la mia famiglia per mia mamma mia sorella per mia moglie perché comunque riecheggia ed è il ricordo di mio padre e quindi al di là del valore meramente sportivo c'è proprio un valore intrinseco forte a livello morale psicologico ed è un ricordo veramente indissolubile che non dimenticheremo ma anche perché come ho sempre detto tutto è nato grazie a mio padre perché ha fondato l'azienda l'Italservice e senza questa azienda non avremmo potuto creare questa bellissima realtà questa bellissima squadra questa bellissima società sportiva e quindi ecco per noi è un valore è una giornata molto toccante molto importante gli avversari sono l'Ello 84 di Torino una società meravigliosa una società molto solida che diciamo non ne ho promossa è venuto su dalla 2 però ha una grandissima caratteristica cioè di aver inserito nel loro staff dirigenziale Marchisio ex giocatore della Juventus quindi hanno questa collaborazione con Marchisio che è uno per loro uno sponsor importante ma è anche un dirigente e quindi ecco questa dimostrazione di quanto il calcio a 5 si stia avvicinando dal calcio a 11 e probabilmente ci sarà a Pesaro anche Marchisio sabato pomeriggio ad onorare questo memorial e a me farebbe molto molto piacere siamo molto contenti di questa scelta e di invitare questa meravigliosa società qui nella nostra città noi continueremo ad allenarci la Fano giochiamo a Pesaro perché comunque il palazzetto ci serve per le partite interne casalinghe anche perché abbiamo puntato una campagna abbonamento abbiamo fatto una campagna abbonamento importante dicendo ai nostri cifosi che abbiamo giocato a Pesaro quindi per forza di cose dobbiamo giocare al palafiera che non è più palanino pizza e quindi ci organizziamo così chiaramente ci sono dei disservizi perché i giocatori da Pesaro devono andare a Fano l'Under 19 l'Under 17 l'Under 21 che fanno campionati nazionali devono andare a Fano ci dispiace perché comunque il comune non ci sta dando quelle attenzioni che avremmo voluto e di cui pensiamo di meritarci e questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale Rossini News vi ricordo che subito a seguire l'informazione della nostra emittente continua perché torna il Valle Foglie Pian del Bruscolo Magazine il telegiornale del territorio che andrà in onda tutti i venerdì alle ore 20 e alle 23 e 15 le repliche poi indicate nel cartello per le giornate di sabato domenica lunedì e martedì questa sera invece in prima serata lo speciale dedicato a Dars in Genium la settimana dell'artigianato e delle micro e piccole imprese promosso da Confartigianato imprese appuntamento che è partito a Senigallia il 27 settembre e che andrà avanti fino al 3 ottobre vi racconteremo quindi questi importanti appuntamenti con lo speciale in onda in prima serata su Rossini TV e poi l'informazione della nostra emittente torna puntuale domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini e alla conduzione ci sarà Antonio Astuti e come ho anticipato questa mattina nella nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini questa edizione del telegiornale segna il termine del mio percorso di collaborazione con Rossini TV desidero quindi ringraziare tutti i colleghi che mi hanno accompagnato in questo viaggio la direzione Emanuela Rossi e Andrea Marcelli per la possibilità e tutto il pubblico che mi ha seguito negli spazi di informazione della nostra emittente grazie e buon proseguimento di serata su Rossini TV Grazie